potere pelato sono tornato ed è lunedì mattina no pomeriggio sera ciao come state cercando il telecomando della telecamera perché non so se sono a fuoco comunque ciao a tutti buonasera e bentorni oh i led è vero me li sono dimenticati alex accendi led niente è sorda alex accendi led ora ha funzionato evviva comunque pensavo che si è spento i led per risparmiare sulla bolle si minchia proprio ho due pc accesi grazie a spirofore per la sab livello 1 dieci mesi grande ci fossero più persone come te approfittate del subtembre abbonatevi con i soldi veri ciao e comunque grazie anche ad antonio che oltre a essere diventornato ad essere mod anche sabato per livello 1 per un mese grazie viva il subtember e comunque ciao a tutti e benvenuti a questa nuova fantastica live è lunedì e quindi guarderemo cosa esce questa settimana incredibile ma vero è proprio così l'avreste mai detto io sì è tornato nelle nostre vite grazie antonio di essere tornato nelle nostre vite domanda del giorno ci saranno le cover sul sito panini probabilmente no immagino come sempre adesso antonio umberto in minoranza su buone oddio che palle basta buone basta mazzarelle vi prego in realtà è l'undicesimo mese e vabbè si è zerato tra prime livello 1 cambia qualcosa ora per me sì crada però no in teoria no per ora no però pare di sì non si sa non si sa c'erano delle voci che dicevano che da un certo punto che ha il prime comunque vedrà le pubblicità però non lo so se è vero è una voce che è girata poi e grazie anche a valerione che si è abbonato con prime per 11 mesi e chi lo sa ciao voci da nerd e ci saranno paninate non lo so sono solo gli annunci non credo e chapeau a tutti ok e come ci si abbona con prime beh hai collegato il tuo prime quindi clicchi sul tasto abbonati e c'è c'è scritto abbonati con prime tipo una cosa così visto che ce l'hai già collegato non dovrebbe essere troppo complesso se ne puoi fare ovviamente solo uno al mese per canale cioè un canale al mese su tutta twitch no ma è già collegato non è che deve collegarsi c'ha il bollino quindi devi soltanto cliccare su abbonati con prime dove c'è abbonati e si è attesa la pennata forse stessa una pennata può essere può essere se l'attesa non gliela posso fare o che bello alle pozze che ha riscattato una capra superstiziosa sì alle pozze sei una capra superstiziosa era un po che nessuno riscattava capra superstiziosa vi ho fatto finire i punti sono contento mi sa che si è buggato perché non me lo fa fare boh invece tex spende ben 50 mila punti per far dire a tutta la chat che è composta di capre superstiziose dopodiché a questo punto non lo faccio più perché non ho già più voce grazie vi voglio bene cominciamo così proprio all'inizio della live no non se l'hai riscatti ti sparo minimo almeno aspetta qualche minuto che mi ripiglio bevo maledette capre capre ovunque per me era un meme era per il meme ho quasi 100 mila punti evviva ciao nicole coppola potere pelato forever sono d'accordo e quante capre che belle le capre che bello animale la capra ho 15 mila 200 no come i 152 mila punti no considera che ce n'è un minimo e non ce ne sono infinite è passato bene il fine settimana buh sì sì sono andato anche a mangiare dai miei zii quindi ho mangiato per una volta ho mangiato del cibo vero quindi ho anche fatto spesa dai miei zii quindi è sempre bello perché poi sono tornato a casa con tipo con le provviste quindi è stato molto bello molto bello in realtà devo fare la spesa vera perché sto finendo il cibo però a parte questo tutto ok prossima volta lo riscatto a 60 mila punti eh? non ho capito va bene il volume salda press di Alex Ross è un volume unico il volume salda press di Alex Ross? ma non è di salda press di Alex Ross vuoi dire il volume dei fantastici quattro di Alex Ross? comunque sì è un volume, quello è un volume unico in cosa consiste la capra superstiziosa? aspetta te la faccio vedere un attimo sempre pronta? capra superstiziosa è un meme che è nato dal bellissimo fumetto di morte bianca nella sua primissima edizione questa che poi purtroppo è stato rimosso da questa versione ma è una delle frasi del protagonista che a un certo punto quando al suo amico o minorenne vengono strappati gli occhi grida alla gente lo trovo? non lo trovo non c'è più ah sì grida alla gente appunto capra superstiziosa è che non siete altro non vedete l'età che ha perché giustamente se era un po' più vecchio potevi fargli questa cosa se aveva tipo non lo so vent'anni venticinque era ok ma siccome è giovane allora capre superstiziose che non siete altro che bello che bello che bello che bello the age of capra purtroppo qui non c'è più lo hanno rimosso io sono molto triste guarda è diventato un molto più banale brutti idioti ve la prendete con una persona in difesa e dov'è? si perde tutto il gusto mimico della cosa non è giusto non è giusto non è giusto non è giusto mi ricorda molto Memento Mori vabbè i disegni sono un po' meglio di quelli di Memento Mori però il livello di qualità soprattutto della prima versione era peggio secondo me è peggio di Memento Mori almeno la prima edizione cioè la prima versione è talmente una roba senza senso che Pitfine veniva a vedere il video ma l'ho dovuto rimuovere devo mettermi a rifarlo ma si si nella nuova versione ha senso la frase ma perché nella nuova versione mentre nella prima era fatto solo da morte bianca nella seconda gli hanno messo ben due editi due editor ci hanno messo Marco Ventura e Mattia Martignago che hanno editato tutto il fumetto dando del senso logico al casino senza senso che era la trama del volume cioè c'erano proprio parti che si contraddicevano si capiva un cazzo per cui buonasera cose morte bianca morte bianca è un fumetto di morte bianca scritto da morte bianca e disegnato da Marta Valbiero ciao morte bianca morte bianca è uno youtuber streamer non lo so non lo seguo filosofo credo a te piacerebbe sceneggiare o disegnare un fumetto no non sono in grado comunque con questo nome sono ufficialmente azionista del canale ah oddio è proprio adesso ho capito è 2099 mod pelati e fumetti mio dio cioè ma quindi usi più vuoi dire che usi più account contemporaneamente e questo lo usi solo qua è affascinante questa cosa ok ci sta la droga meno però ci sta secondo me morte bianca e Rick Dufer sono la stessa persona Mojack hai detto hai fatto una battuta simpatica complimenti ti voglio bene oggi però mi piace questa idea che morte bianca e Rick Dufer sono la stessa persona guarda adesso la mando sul canale degli ex fan di di Weza cioè che non sono ex fan di Weza è ex canale di fan di Weza che adesso non è più il canale dei fan di Weza perché Weza ha detto che non lo voleva più il canale parole dure ok e comunque ma Weza dove è andato a finire e Weza ha smesso di fare Twitch perché non si divertiva più credo credo faccia ancora i video su YouTube ma io guardo molto poco YouTube per cui non lo so sinceramente è che io YouTube riesco a seguirlo molto poco non so fisicamente il tempo per cui boh parole dure come le cose delle cangure mi sei mancato Antonio devo dire no forse forse no non lo so sono confuso ho della confusione ma ne faremo a meno boh che si sia rotto le palle Weza come Rick come Rick Duffer che ha lasciato Twitch su YouTube e ciò ci sta se hai una community che si subba su YouTube funziona uguale tanto ciao Jack Dawn stavolta pensavo di provare a fare qualche live su YouTube per venire come vedevo per vedere come venivano visto che tanto Twitch la parte non me l'ha mai voluta dare a me Rick Duffer non piace molto sinceramente ogni tanto sono anche d'accordo con lui più nei video li riesco anche a supportare il live non mi piace molto le live di YouTube sono una merda sì sono d'accordo però la differenza è che su YouTube ho 12.000 iscritti ciao cosa ne pensi dell'omnibus di Batman di Scott Snyder lo consigli sì assolutamente sì soprattutto il primo e mi sono negati oggi i primi due numeri di Spider-Man il primo numero della Justice League di Morrison e il primo di Noin un po' così a caso Crash oddio Adidas farà l'abbigliamento in collaborazione con la Marvel beh chi non lo fa The Max fanno di tutto di più non mi stupisce saranno robe orribili chi mi scrive? qualcuno vediamo cosa hanno detto qualcuno mi dice impossibile che Morte Bianca sia il vile ma io non so leggere cioè non so i meme per cui una risposta ha scritto povero Rick dopo aver collaborato con Fortnite che bello ci sono i pigiami e le mutande di Spider-Man ottimo ottimo c'è proprio la bisogno di mutande di Spider-Man ma solo da uomo o anche da donna non che mi servano però conoscete i monogattari? sì ma non lo leggo solo uomo eh che tristezza doppia tristezza orribile orribilitudine che tra l'altro avrebbe più senso il contrario no aspetta però sì secondo me avrebbe più senso il contrario così tu donna che sei fan di Barbie quando spogli il tuo uomo ha le mutande che ti piacciono tipo e gli demi il contrario secondo me ha più senso così però grossa problemica di Chirione sulla sottiletta di Buddha da 15 euro sul suo canale sub non è Buddha è tre occhi o anche Buddha anche Buddha l'ultima sottiletta a 15 euro è già arrivata e Tex Villa adesso ti giuro che ti becchi una sospesa allora se Buddha esce questa settimana io ti sospendo tu sappi lo ti sospendo per tutto il giorno oggi ora lo scopro lo scopro subito sull'altro schermo perché te l'ho già detto eh ma se è quello è finita te lo dico cazzi tuoi oggi vieni punito per tutte le volte che spoileri io ti avviso no ok hai semplicemente che ho capito niente ma ok va bene non è Buddha è terzo occhio era la volta che due donne combattono su una tira un pugno e l'altra mette K o battuta ce la faccio più ce la faccio più se ne può più e non c'è ce la faccio più ce l'avevamo lì Antonio ti demoddo ma l'ha detto Tex un giorno un giorno riuscirò a stoppare a sospenderlo per un giorno sì è il mio mouse è il mio mouse è il mio mouse ma a mille anni sto mouse è solidissimo Tex Villain della settimana sì l'altro che belli i mouse ottici voi vi ricordate i mouse con la palla avete mai usato un mouse con la palla o anche senza trovare cosa indietro i mouse ottici con la luce perché questi qui non hanno la luce in realtà questi qui sono un po' la seconda generazione dei mouse ottici i primi erano una merda perché c'avevano la lucina c'avevano proprio la lucina che usciva non uso il mouse da anni io ne ho ancora uno con la luce tra l'altro quelli con la luce consumavano se erano wifi consumavano quattro volte tanto cioè questo qua non la cambio mai la batteria farla fuori una pila ogni non lo so ogni sei mesi sei mesi magari no però quelli con la luce minchia sembravano perché ovviamente facendo luce consumavamo molto di più schichissimi le consacro ancora quello bianco ingiallito quadrato bello tra l'altro credo che funzionino anche meglio rispetto a quelli con la luce questi qui sono la luce blu credo in teoria non lo so probabilmente non ne mettono niente questi qui sono tipo ottici e basta la tecnologia che avanza che bella cosa ci pensavo oggi oggi rimeditavo sui cambiamenti che non ci sono più perché un po' è vero cioè pensate dieci anni fa dieci anni fa è uguale a oggi secondo me o sono io che non mi rendo conto cosa è cambiato in dieci anni cioè dal 2012 al 2022 cos'è cambiato vabbè io anch'io io ho il naga perché quando giocavo a warcraft mi servivano più tasti io non so dove ho messo gli altri tasti però questo è cambiabile e c'è fino a 12 tasti non so dove li ho messi in realtà li devo aver messi via da qualche parte dove non lo so forse sono insieme al mio cam link nel posto in cui metto le cose e poi non mi ricordo dove sono sì raga parlo in cose un po' che non sia una semplice evoluzione perché sì cioè adesso il mouse ottico o il mouse ottico con la luce non è che ti cambia la vita parlavo proprio del mondo attorno a noi cos'è cambiato visivamente tipo smartphone nel 2012 avevo già uno smartphone poi è più figo lo smartphone di oggi sì c'è la telecamera più performante sì il gps bojack c'era già ultimo dieci anni siamo lì eh le auto elettriche sì esistono ma sono diffuse cioè in giro vedi centinaia di auto elettriche no i pc sono uguali crash i pc sono uguali a 12 anni fa il mio pc è del 2009 questo di qua è del 2009 è più lento di un pc di oggi sì è meno performante sì ma è identico e lo uso non ci posso giocare i giochi di nuova generazione ma ci posso giocare tantissime robe e assistenti vocali per la casa sono una cosa però sono davvero diffusi non lo so quanto sono davvero diffusi nel senso io sono molto nerd quindi ce li ho però non lo so mi chiedo quanto siano diffusi nella società odierna voi li avete in casa soprattutto voi più giovani che magari non è casa vostra ma a casa dei vostri sono curioso il touch sì il touch c'era già cioè gli iphone gli smartphone esistono eh se vi ricordate windows 10 no quale cazzo era quello orribile che cercavano di trasformarlo in una sorta di telefonone fisso però mio padre ha quasi 80 anni che anzianità Dario mio padre ha smesso di invecchiare io ho trovato le utilità dato che non ho molta dinamica dimottica vabbè io ho le luci ho i led ascolto la musica e lo trovo molto comodo per la musica tipo vai in cucina anche il timer io in cucina se devo fare da mangiare uso il timer di Alexa se devo mio papà avrebbe 70 6 tipo credo però tra volte erribile Samsung Galaxy Flip non sai i telefoni che flippano secondo me non sono una grande idea eh l'Apple Watch si ci sta effettivamente se hai l'Apple Watch ci sta io ho questo l'Apple Watch non c'ho voglia di spenderci tra l'altro devo decidere che telefono prendere ed è un gran dramma e non comprerò il telefono infatti ho cercato di fare pressioni sui miei zii per farmi un prestito però non so magari adesso non sono gli stessi di 10 anni fa ma dipende alcuni si ma Bojack alcuni sono anche gli stessi di 20 anni fa OS 21 Ultra 5G bravo voglio vedere un ruine per l'iPhone 14 io vorrei allora io prenderò il 14 molto probabilmente vorrei prendere il Pro perché per una questione puramente lavorativa mi farebbe comodo avere un telefono molto molto performante e molto molto figo dal punto di vista video però non c'ho voglia di spendere 1300 1400 euro 1400 facciamo quanto costa 1400 al Pro mi pare vediamolo insieme prima di guardare i fumetti guardiamo gli iPhone prima di guardare i fumetti guardiamo gli iPhone non dovevo parlare io avevo Twitch aperto vediamo vai allora considerando che io li cambio molto in là questo qua è un 6s preferisco prendere quello più appena uscito sinceramente quindi prenderò il Pro Max no non è vero Pro e oltre ah ma dai costa solo 1300 anche se compri il Pro non ti puoi comprare quello base perché quello base fa ridere cioè oddio puoi però acquista 14 che colore c'è viola scumi che è viola scura nero siderale ma che bello c'è anche nero siderale cosa vuoi di più però devi comprare per forza il 250 cioè comprare il 128 mi sembra idiota posso dirlo che probabilmente ha senso comprare il 256 e boggia che il concetto è sempre questo no non lo acquisto ora in live non c'ho nemmeno i soldi ribadisco se io non facessi questo tipo di lavoro mi comprerei probabilmente l'S2 l'S2 cioè comprare questo questo comprare l'SE SE va che bello l'SE acquista vabbè però 128 629 euro e ti compri il 128 mezzanotte anzi rosso o bianco non è bianco lo prenderei 128 bam 620 euro tuo no ma non c'è niente di male li ha ricondizionato però se se lo devo comprare mi compro quello cioè allora se devo comprarmi quello figo mi compro quello figo attuale non mi compro quello figo della volta prima sai che roba Dario no io sto in Apple e rimango in Apple non voglio ritornare di nuovo ad Android sinceramente per cui se dovessi comprarlo mi comprerei se dovessi usare il telefono perché sono una persona normale che usa il telefono per chiamare gli amici cioè mai guardare i video non guardo nemmeno i video fare le storielle su Instagram e staccattare le foto alle robe prenderei quello sinceramente preferisco io non amo molto le rate se devo essere sincero non comprate telefoni su Swappi e anche io ho sentito delle cose un po' no infatti 256 per forza 128 non ha senso comunque vabbè non ci non ne sono certo probabilmente alla fine comprava il 14 normale Swappi è un servizio di telefoni buh si le rate secondo me almeno lo paghi l'hai pagato e vaffanculo e poi non ti preoccupi più per cosa usi il telefono nel lavoro e sai faccio lo youtuber e lo streamer fai tu se ho un telefono su cui posso fare i video lo uso per farci i video io sto pagando groundwork di varate grande quindi il 14 normale prendi il 13 che è praticamente lo stesso sì ma ci può anche stare però il concetto è quello che sai il fatto è che tenendolo comunque per tanto dici vabbè a quel punto sì vai su vai qui vedi cosa c'è in vendita perché comunque in teoria ci sono le cose ricondizionate non mi ricordo dove stanno sono sotto ricondizionati a fine serie vai su iPhone se vuoi tipo è il 13 non c'è però ancora però effettivamente se uno vuole risparmiare ti prendi il 12 pro e ti prendi il 12 pro e hai e te lo prendi con 900 euro con 1000 euro ti compri il 12 pro ricondizionato no 1200 non lo compri compro quello nuovo sinceramente non è senza sim deve avere la sim no Bojack non è comparso negli ultimi dieci anni Paypal c'era da molto molto prima c'è una dita della provincia di Milano che fa telefoni ricondizionati già fatto servizio con le azze comprati in Italia almeno parlano la vostra lingua vabbè se compri su Apple hai la sicurezza che si è messo bene poi effettivamente se uno vuole comprarsi un telefono decente sì lo so che Tommaso ha preso il Pro Max io il Max non lo compro perché non so dove mettermelo sinceramente sì ma io non lo voglio Android mi fa caccare Android l'ho avuto per anni ma non c'è scritto che non hanno la sim cioè c'è scritto che è senza sim non che ha poi il 14 questo è il 12 io ho preso la 3 device quello che dici tu è andato benissimo ma a volte va a culo comprare dai terzi e per me che se hai la sfiga di beccarti quello sputtanato bu comunque se volete un 12 Pro Max no è sempre Pro Max non è Pro Max ah no perché c'è ancora il Pro selezionato un bel Pro Max argento 512 1300 no mi compro il normale 4 con 1300 però 512 giga 156 1100 però non ha molto senso noi in famiglia abbiamo tutti i Redmi vedete perché siete dei comunisti servitori della Cina comunque ho fatto la cazzata di passare da Apple ad Android adesso quando cambierò telefono di nuovo tornare ad Apple mai più Android a me non piace Android poi per carità non c'è niente di male però Apple mi dà più sicurezza se devo essere sincero però eh ma su questi qui sono usati nel senso che comunque però sono come se fossero nuovi praticamente perché ti arrivano da Apple per cui cioè se c'era qualcosa lo hanno modificato lo hanno rimesso a posto loro direttamente sicuramente se compri questo sei sicuro non dico al 100 però al 90% poi per carità niente di male in Android però sinceramente mi trovo meglio con Cosmo ma Dario nì eh nì sì comunque in ogni caso devo cambiarlo questo prima della fine dell'anno penso che in qualche modo lo cambio perché cioè è diventato veramente imbarazzante fare le cose su sto telefono non funziona mi chiede se qualcuno ha detto ad Ellie che questa sera c'è la live di Astromica secondo me no Simone non le ha scritto ha scritto solo sul canale di Astromica nostro e lei non l'avrà letto e secondo me non lo saprà questa è la mia idea però acquistato su internet ok che Apple ma fattorini mi fido po' ma figurati poi non si fanno un cazzo sono super imbottiti i telefoni cioè c'hanno il coso sicurezza in che senso no non in quel senso a me della privacy non me ne frega un cazzo cioè non sono proprio non sono uno di quei coglioni che si fanno la testa malata per la privacy e poi hanno Facebook e boh è tutto no no a me questa qua ormai non dura questa batteria lo vedi il cavo io non lo stacco in casa cioè se lo stacco inizio a scendere ormai funziona con la batteria esterna il mio telefono sì ma non solo Facebook è Uldra cioè non hai Facebook hai TikTok o hai o usi Amazon qualsiasi servizio usi online gli dai tutti i tuoi dati se vuoi se sei se tu vuoi essere sicuro della tua privacy non devi stare su internet allora sei sicuro secondo te ha senso sostituire la batteria per non cambiare telefono beh sì ha senso sì io una volta l'ho cambiata di questo ma se hai un iPhone cioè se inizia ad avere problemi con la batteria adesso non so quanto costa ma metti che ti costa 100 euro meglio spendere 100 euro che cambiare telefono non è che sei costretto a cambiarlo ogni sei mesi ogni anno quando esce quello nuovo va anche detto che chi usa il telefono sì ma non puoi fare tutto su Tor capiscimi è vero che chi cambia telefono ogni anno magari poi lo dà via quello vecchio per cui fa però comunque ci smegna un sacco di soldi però va detto che se tu ogni anno vuoi diventare Tor è un sistema di rete privata quello dove fanno le robe le sporcacce tra l'altro ringraziamo l'Unione Europea che stiamo vedendo sempre più prevedendo la riparazione e allungare la vita dei dispositivi sì quello sì ci sta se poi obbligassero Apple a mettere la cazzo di porta USB-C a me farebbe comodo perché ad esempio domenica ero dai miei zii mi si è scaricata le cuffie USB e solo che sono USB-C e le miei zii non hanno cavi USB-C e quindi non ho potuto ricaricarle e vabbè però ma se hai il 12 Pro o il 91 Albi secondo me se non ne hai bisogno per cose fighe o perché il telefono ha dei problemi io me lo terrei e meno male feria di TV perché madonna che palle mettiamo tutti gli stessi cavi tanto che cazzo cambia dal 14 no il 14 è già uscito e il 14 è ancora Lightning poi è USB-C in realtà ma la porta è Lightning ok comunque dai direi che sono le 18.32 possiamo è l'iPhone che tira le views guardare in poi parlerò sempre con un iPhone davanti comunque parliamo di fumetti e vediamo un po' cosa esce questa settimana così ci facciamo il fegato amaro e il portafoglio vuoto panini tramite Tor si accede al dark web al dark web che poi è quello della nuova serie Marvel crossover Marvel sono già 20 spettatori in meno così e vabbè vabbè alla fine di questo parlo però d'ora in poi parlerò solo di telefoni se volete faremo aspettiamo di vedere qualcosa allora io non voglio litigare con panini motivo per cui mi sono faccio le live con Chirio che anche lui odia planet pare se venite a Napoli e lo trovate 200 e lo più 14 super max proprio così devi tenere chiusa la scatola perché quando la apri scopri che è un mattoncino e vabbè sì sì stanno già scendendo se ne vanno via tutti e vabbè pazienza comunque se compro il telefono faccio una maratona ho comprato l'iphone così e lo metto qua faccio tutta la live così col telefono nuovo però così in live cultura popita comunque se mi interessa chi non odia planet ma in realtà secondo me l'odio per planet è un po' boh eccessivo e quando c'è una sorta di odio per planet e mitificazione delle altre case elettrici io non lo so a me sembra che siano tutte un po' così però cioè non noto il concetto è sempre quello grazie al cazzo Panini pubblica da sola è probabilmente il 50% del mercato fumetto in Italia per cui grazie è facile trovare cose che non vanno però boh poi per carità spesso spesso fanno minchiate siamo tutti d'accordo però in ogni caso cominciamo come al solito e vediamo di litigare con qualcuno dicendo che Disney Panini sono prodotti per bambini evviva sì che la comunicazione di Panini faccia cacare è vero però Drillar così te ne dico due tu mi sai dire come mai fonte ufficiale come mai è sospeso dai o mi sai dire se la serie dei cavaliere dello zodiaco andrà avanti oltre i numeri che sono fermi in Giappone così per parlare di Star Comics poi per carità che Panini a volte abbia un po' è vero però non è che le case elettrici in generale comunicano così tanto sono d'accordo che con Star Comics è molto comodo il fatto dei ritardi perché ti dicono esattamente cosa esce e cosa no quello ci sta il problema degli arretrati in questo momento ce l'hanno tutti Miracle Breeze in realtà perché anche Star Comics c'è una marea di roba che se vuoi recuperarla ti attacchi perché perché è un momento in cui ovviamente possono stampare quanto possono stampare e quindi tendono a stampare il nuovo ma non mi pare che l'abbiano affrontato il problema con Dai io di fonti ufficiali non ho visto niente si sa che ci sono problemi con i diritti punto per mesi questa cosa poi adesso non so se ultimamente hanno detto qualcosa di ufficiale ma per mesi non hanno mai detto nulla comunque cosa esce di Disney le grandi avventure spaziali bella la copertina come sempre Disney Big 174 una grossa P Topolino Junior che è la versione ancora più giovane tipo per i bambini di 4 anni credo a che indirizzato Topolino Junior sinceramente non c'è scritto niente giustamente leggi divertiti con i fumetti giusto disegna Minnie fai da te i color spinner scopri tutto sui camaleonti il gruppo per i bambini appena nati chi lo sa tutto sui camaleonti comunque e poi abbiamo Topolino vabbè inevitabilmente la ballata di John D. Rockerduck che sembra ha anche un bel titolo ma non ha la copertina quindi non ne sapremo mai nulla la collana Topolino extra graphic novel si è richiesto un nuovo titolo la ballata di John D. Rockerduck un racconto introspettivo dedicato all'eterno secondo lo sceneggiatore Marco Nucci e il maestro Giorgio Cavazzano autori della storia recentemente apparsa sulle pagine Topolino scandagliano le profondità del suo animo e le rivalità con Paperone restituendoci risvolti meno conosciuti del personaggio come del volume un ricco un ricco apparato redazionale ricco di sketchbook e contenuti inediti bello però se mi ci mettevano la copertina magari era più bello e poi abbiamo Cars Magazine 164 che è Panini Magazine Lego City 28 e Storia e Gloria della dinastia dei Paperi che invece ma in quante versioni lo stanno ristampando sta roba? cioè adesso ho capito che è una parte fondamentale importante e fighissima e siamo tutti d'accordo ma questa invece è Zio Paperone beh sì è il rimbombo lunare boh ah no ma deve essere una roba italiana questa non è quella classica boh non lo so questa è la collana le grandi saghe perché sono stati pubblicati su Topolino nel 1970 quindi sarà una roba italiana questa però ovviamente ci aiuterebbe avere una copertina sì perché non le mettono boh questa è la grande domanda e secondo me questa è la più grande domanda che bisognerebbe fare a Panini perché sul sito non ci sono le copertine della roba quando ormai è uscita cioè è ordinabile questo non è neanche ordinabile in realtà ma non è uscita perché non è ordinabile poi boh boh cioè è prenotabile ma non è ordinabile però perché non ci sono le copertine quando sono ordinabili non ha senso prenderai il fumetto di Biancaneve non so cosa sia perché sono ben organizzati giusto ma voglio dire non ci vuole tanto e tu fai prepari la copertina per la stampa la carichi anche sul sito ciao sembra impossibile da fare ma ok poi abbiamo togliamo Panini Disney torniamo Panini Magazine appena si ricarica ok ce la faremo allora abbiamo DC si comincia con DC Comics vediamo un po' cosa ci propone DC Comics beh un sacco di copertine bellissime devo dire così per cominciare wow guardate quanto è bella la copertina del nuovo numero di Superman il 40 poi abbiamo Justice League 28 e Dark Knight of Steel 3 lo compro lo compro non lo compro questo aspetto il volume quello che si occupano del sito non pagano abbastanza forse o forse non li pagano poi abbiamo sotto il primo numero di Justice League contro la legione dei supereroi di Bendis in teoria è quello di Bendis questo si no raccolte complete no è un'altra cosa che cazzo è non capisco scusa cosa vuol dire raccolte complete no è quello di Bendis si non lo so oh no che palle aspettato pu pu meglio va bene sente posto ok e si mi sai che porti sfigato Giscone mi spiace così era molto brutta questa Antonio non la leggerò nemmeno comunque non ho capito perché tipo raccolte complete ok raccolte complete e va bene comunque legione dei supereroi di Justice League corso Verone di Bendis ok non c'è manco scritto cosa contiene perché non gli piaceva metterlo grazie panini sempre al top e ci vorrebbe un video di singa panini insieme a Kiri o no no ti prego basta poi poi mi arriva Madmich a dire ecco fatele views solo perché parlate male di panini che poi vi regala i fumetti perché hai bannato Wolverine 2099x non bannare la gente a caso anche se è l'altro account di coso non so se parla ancora di me ma adesso probabilmente saprà che ho parlato di lui e quindi farà un video contro di me comunque hai bannato il suo altro account per la battuta ok poi abbiamo il il ottavo numero di Preacher all'inferno e ritorno assolutamente da recuperare siamo a te Ennis e Dylan figo 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 se non l'avete mai letto dovreste farlo olè eh no sono ancora quei tempi Ciscone purtroppo non finiranno mai temo poi abbiamo il nono numero di Fables anche questo se non l'avete mai letto recuperatevelo come si entrava nel gruppo sub no no vale vale basta che scrivi punto esclamativo sub e grazie a BandanaWe che si è riabbonato col Prime basta che scrivi punto esclamativo sub e ti arriva il messaggio nel nel privato 23 mesi quasi 2 anni mamma mia grazie a BandanaWe un follower per la vita e 2 anni di noi mica quanto tempo che faccio streaming comunque bravo Antonio che si sdemod che si sdeban poi dietro questa simpatica P si nasconde Raw Frigerator Full of Dead ma scusatemi Raw Frigerator non è Ray Frigerator manca la copertina un errore di scrittura perfetto ma soprattutto perché c'è il doppio titolo inglese italiano è una merda avere il doppio titolo è proprio una roba di merda e tra l'altro è come The Nice House of the Lake la piccola casetta sul lago o lo lascio in inglese o lo metti in italiano che cazzo serve averlo doppio oh pieno di tette che cosa inquietante molto più di teste tra l'altro ma viviamo in Italia la gente l'inglese non lo sa ho capito allora lascialo in inglese è il sequel sì è una sorta di sequel di Basketful of Heds non un vero e proprio sequel ma una sorta di storia collegata infatti è il seguito sui generis di una cesta piena di teste non credo che lo comprerò perché non c'ho soldi però a parte quello carino se volete una storia dell'over un po' stramba ci sta poi abbiamo un sacco di cosine però un sacco di cose costose meno male che vabbè spillato 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 questi due c'è lì ho questo non lo piglierò Esploratore dell'ignoto questo lo compro perché lo voglio Jeff Loeb e Team Sail finalmente sono tornati insieme no non è collegato a In Viaggio con la Testa poi abbiamo Superboy e la Legione del Supererò no dicevo questo è molto interessante Esploratore dell'ignoto è la prima storia che hanno fatto insieme Jeff Loeb e Team Sail sono una sorta di proto-fantastici 4 gli esploratori dell'ignoto non credo di aver mai letto niente dei personaggi però sicuramente lo compro adesso non so se lo compro direttamente in fumetteria eccetera vediamo magari non lo compro nemmeno questa settimana e devo vedere un po' quante cose escono però sicuramente è una di quelle robe che andrò a recuperare quanto prima come titolata Panini appena si scolziano e arrivano le scimmie avrei a che fare un lavoro migliore di quello attuale vi avrebbe licenza non è venuto a mancare di recente Team Sail sì mi pare di ricordare quindi lo compro e poi faccio live in ricordo di Team Sail no non mi sembra il caso però un bel video di tutti i fumetti che ho di Team Sail che è recentemente morto quindi lo piango ora bello mi piace comunque a parte questo poi abbiamo Superboy la legione dei supereroi il massacro del millennio che è una storia speciale proposta nel formato gigante di Sea Limited Collector's Edition che è tipo grande tesori Marvel come idea eeeh 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 totalmente un video non un video per fare soldi no infatti assolutamente eeeh Superboy la legione dei supereroi eeeh eeeh mi viene voglia sono Mike Grell e Paul Levitz sono 80 pagine per 20 euro però ho formato gigantesco non ho guardato nemmeno cosa esce Free Bojack e comunque te lo dico Bojack d'ora in poi sei sotto osservazione come mod perché te l'ho già detto un milione di volte di non farmi domande totalmente fuori tema sei un mod quando sto facendo una roba veramente mi fa incazzare questa cosa perché non sei il tizio che passa ma lo fai costantemente e ho un livello di accettazione che arriva fino a un certo punto e te l'ho già detto più e più volte e la finisco qua però davvero minchia comunque devono mettere sospendi le persone perché è proprio una roba sta cosa sta abitudine di merda stile siamo nella chat di Dario Moccia e quindi devo comportarmi in quel modo lì è una roba che non sopporto la trovo veramente cringe su Twitch sta cosa perché non è che ti interessa è questo il punto è proprio poi tanto abbiamo un altro mod che è tornato per cui se dovessi farti vedere da Scriba riscatta il tema auto appellati ai fumetti eh c'è un tema auto appellati ai fumetti che brutta cosa e oltre a quella su Team Sail farai anche qualcosa in nord della regione Elisabetta tutti i fumetti sulla monarchia inglese Bojack sei una capra superstiziosa ok e sui termini sono utente a scelta chiedi scatti punti ah ok ok comunque molto interessante questo qua ci darei un'occhiata anche a questo mi sa che diventerà una di quelle robe che aggiungo alla lista regali e sta lì però figo poi anche perché escono pochi volumi questa settimana come dicevamo abbiamo Batman i racconti di Steve Englehart Englehart che ricordo che avevamo guardato e sembrava una cosa carina mi sa che sono storie che non ho tra l'altro però devo controllare in ogni caso storie classiche di Steve Englehart sono 42 euro oppure questo sempre leggeri è uno degli scrittori più influenti della storia di Batman 456 pagine alcune delle sue storie migliori ci sta c'è anche Batman Dark Detective del 2005 chissà se ce l'ho è da vedere se uno ce li ha o no tutte le volte che la regina è comparsa nei fumetti anche anche però che non ne ho idea e questo è il problema oddio aspettate fatemi fare una cosa una cosa molto ye allora sì ho scritto database male però 18 apparizioni di Elisabeth II a Windsor su Terra 616 nei fumetti su Capitan Bretagna 137 quanto è bello il Marvel Database eh sapete che funziona questa cosa qua è bellissima tutte le storie in cui è apparsa la regina Elisabetta nei fumetti Marvel se li hai alcuni di questi sicuramente sì non tutti sicuramente ma alcuni tipo Dead Secret Avengers volume 1 22 probabilmente ce l'ho Gambit questo probabilmente ce l'ho questo probabilmente ce l'ho X-Men True Friends non so cosa sia ce l'ho esiste in Italia non ne ho idea alcune di queste le ho comunque non tutte ovviamente tipo Master of Kung Fu volume 1 111 ho i miei dubbi Capitan Bretagna dipende da quale storie erano no queste qua no però se compri se compri l'Omnibus secondo me ci sono quello che dovrebbe uscire che vanno annunciato no ma forse quello era solo di Alan Davis cioè sì Alan Davis si non so cosa sia X-Men True Friends in realtà magari c'è magari l'hanno anche pubblicato da noi è di Rick Leonardi del 99 vediamo vedi le curiosità è come è come Wikipedia una cosa tira l'altra eccolo come Xbox pubblicato in Italia su Wix su Wizz55 quindi ce l'ho è una storia di Clermont e Rick Leonardi non me la ricordo assolutamente su Excalibur ce l'ho grande Calvino ma Calvino è memoria o è Waze 2 Comics Box se è memoria complimenti comunque tornando a noi memoria minchia che memoria io non mi ricordo cosa ho mangiato ieri a pranzo cioè non mi ricordavo cosa ho mangiato ieri a pranzo alle 17 da Kirio fai tu nella live della 17 da Kirio non mi ricordavo cosa ho mangiato ieri a pranzo potresti essere il Comics Box vivente comunque Presidente Lex sono storie che non ho mai letto quelle di Lex Luthor che diventa Presidente degli Stati Uniti sarebbe anche carino recuperarsene questa qua è una sorta di mega compilation va presa un po' così però dato che comunque non recupererai mai tutte le storie originali non è una dia stupida per cui se uno volesse 30 euro Tony Stark ha fatto anche 264 pagine potrebbe essere interessante ciao a Spider Moony Youtube YT forse non lo so ciao Spider Moon o Spider Moon It non lo so ciao e benvenuto comunque io va a cambiare l'operatore telefonico di mia moglie ciao sono qua da Youtube grande comunque continuando proseguendo nella cosa Justice League Infinity non ne so nulla lo specchio rotto Justice League Infinity serie del 2021 sono 7 episodi completa di J.M.D. Matteis James Tucker e Ethan Bevers guerra per il tono di Apocalypse arriva sulla terra il vero sovrano sarà deciso sulla pelle della Justice League dove è andato a finire Superman e chi è questo nuovo mostruoso Overman è Superman mi ricordo di aver letto questa trama su Anteprima è chiaramente Superman è evidente ciao Nix stavo vedendo il video dei fumetti della settimana grande saluti l'operatore ciao operatore telefonico data dai cartoni mi sa dici può essere però è James di Matteis eh sì è della staccia scritta tra l'altro nuovo capitolo della saga televisiva di Justice League Unlimited ancora una volta per mano James Tucker e James di Matteis oddio potrebbe anche essere interessante il fatto che non sia in continuity con la serie normale anche sti cazzi non lo so può essere che il tema sia un po' young non ho idea però boh sarebbe veramente da sfogliare è brossolato tra l'altro sì no cartonato ma non può essere cartonato è brossolato c'è scritto cartonato ma 19 euro 160 pagine però è tanto anche in realtà 19 euro 160 non lo so però Stuart è lanterna però Stuart ha lanterna verde questo mese tengo il prime grande comunque proseguendo c'è un'altra pagina di sì sì forse sì Octosus però no in realtà non sono i nuovi prezzi con il prezzo vecchio sì ma il prezzo attuale no probabilmente aumenterà quando uscirà il prossimo numero e arriva il corpo delle lanterne verdi non male questo in realtà il corpo delle lanterne verdi ricarica sono le storie di Geoff Jones sul corpo nuova edizione completa non è male secondo me ci sta non è must have must read potresti rileggere il mio messaggio qual era il giorno della settimana in cui venivano rifornite le fumetterie dipende nix dipende dalla fumetteria nella mia arrivano in genere tra lunedì sera e martedì mattina però dipende poi dipende anche dalla casa editrice dipende da un sacco di cose tipo salda presto adesso esce il venerdì prima usciva il giovedì quindi inevitabilmente arrivano dopo però dipende non c'è un giorno preciso per quello c'è una data ufficiale di uscita in cui dovrebbero essere disponibili ovunque ma poi molti arrivano prima e li mettono fuori prima anche se non dovrebbero perché non gliene frega un cazzo giustamente non è che lo ristampano anche nel bonellide non credo cioè stampano anche perché diventa un casino se devi stampare anche però oddio chi lo sa boh io dubito però non lo so sinceramente comunque sono 440 pagine a 32 euro ottimo ah brossuratoni tra l'altro figo beh non è male questa perché è anche relativamente economica a me piacevano le storie però non lo so bisogna vedere se ristamperanno anche questa appunto sull'integrale secondo me no perché comunque penso che andranno semplicemente con le storie di ah beh ma sti brossuratoni sì nel senso che comunque sono appunto 440 pagine a 32 euro è ottimo ma come prezzo poi sono anche bellini certo se le leggi in modo violento si rovinano però no le storie sono buone cartonato sì costava tipo almeno 40 euro 45 comunque proseguiamo direi Lobo 2 è l'omnibus di Lobo 2 beh anche l'omnibus di Lobo se non avete le storie è figo 992 pagine 80 euro buono sono le varie miniserie di Lobo c'è Lobo serie regolari dal 12 al 41 poi c'è Lobo Haunting for Fun Lobo Big Spring Special Lobo I Quit Lobo Lobo Daemon Hell Wins Lobo Death and Taxes Lobo Goes to Hollywood un sacco di lobby che legge sarebbe codice articolo comunque una voce della legge dei cartonanti che non possono essere più stampati sotto le 200 pagine sembra essere veri ma è un'idiozia non ha senso Antoni ma che cazzo di legge è ribadisco datemi un datemi un link cazzo sono qui su qualcosa aperto cosa vuol dire ma poi che legge è non esce un cazzo se hai una news vera passamela se no no cioè è più cartonati 200 pagine legge non ne esce un cazzo che cazzo devo cercare notizie berserk 200 euro per i bonus cioè vorrei sapere da dove arriva sta minchia ma poi perché il governo dovrebbe mettersi a fare una legge a che pro cioè su cosa poi che non puoi fare i libri cartonati con meno di 200 pagine sì però Bojack vedi la differenza è che era un off topic sensato cioè era comunque una roba a tema si stava parlando di cartonato si stava parlando di brossolato c'era un po' di non era totalmente adminchiam Paramount Special cioè che ci sta è come domanda ma fammela prima come no l'emergenza più pressante per l'Italia gli immigrati non dimentichiamo la pressante emergenza immigratica è il motivo per cui io non dormo la notte la notte mi sveglio urlando oddio un barcone poi mi sveglio di qua no ok tutto bene per la guerra a due passi cioè non c'è l'energia elettrica non c'è il gas ma i barconi non ci sono meno male che adesso vince la destra così non avremo i barconi raccomandato inutile sì una grande settimana di sì senza dubbio fatemi chiudere un po' di cose che non capisco più una mazza ok e basta qui abbiamo fino a ora c'è anche superman e tra l'altro c'è anche perché non vi bastavano c'è anche l'omnibus di superman di grant morrison perché non far uscire due omnibus insieme disse panini facciamoli uscire non lo so driller sinceramente non riesco a decidermi quale sia il male minore fra i due potete prenderlo su prima edicola risparmiate 40 euro che cosa tutto superman di coso sì vabbè ma non è l'omnibus che discorso l'omnibus non lo prendi solo perché vuoi leggere la storia se no ti cerchi gli spillatini usati e sei a posto dimmingati in svizzera siamo lì a casa è anche una madre non dimenticarlo te lo sei scordato ed è italiana comunque a parte questo scusatemi tornando a noi abbiamo finito DC Comics andiamo a vedere planet manga iuppidi duppidi duppidi da 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 do ma boh ma madre lo diceva non mi ricordo più boh guardate quante copertine cos'è questa questa copertinosità cioè di cose bellissime come Blue Sky Complex perché c'è ah che esce insieme entrambi i numeri wow lo compro subito no non lo compro credo sia un boys love così a occhio ma non mi interessa particolarmente ha rinnegato la sua fede calcistica allora se questa cosa esce potrebbe non vincere le elezioni probabilmente in Italia poi abbiamo hello morning star pink and mameshiba pack che credo anche questo sia un boys love così a occhio mi dà questa idea c'è un ragazzo con le orecchie da cane e il guinzaglio è passata dalla Lazio alla Roma no anch'io da bambino passai dal Milan all'Inter poi passai al niente perché mi rese conto che il calcio mi faceva cacare c'è sempre stata più cura per attenzione manga maledetti manga no ma in realtà la gente odia planet manga però gli appassionati di manga tutti odiano tutto poi c'è moglie di una spia uno trasposizione manga del film in città dell'Unione d'Argento a Venezia che immagino sentito lì anche quello moglie di una spia esce anche il 2 è un cofanetto con entrambi i numeri perfetto di Riosuke Amaguchi Kiryu Kurosawa Tadashi Noara e Masumumi Kanikizaki Masumumi Kizaki disegna figo se non sbaglio però sinceramente l'adattamento di un film ne faccio a meno si Masumumi Kizaki ma è tipo quello di quello con i draghi credo che si quindi anche te segui il gioco del pallone vabbè da bambino chi è che non segue il gioco del pallone cioè no non guardavo le partite ovviamente seguivo il gioco del pallone come lo segue un bambino i cui genitori seguono il gioco del pallone e quindi oh sì forza squadra che tifano i miei poi alle elementari quelli che tifavano Milan mi stavano sulle palle quelli che tifavano Inter mi stavano più simpatici quindi passai all'Inter però non guardavo comunque le partite no sì giocare a calcio a cancetto è successo nella vita poco ma è successo mi arrivò un sasso su un dente una volta un'altra volta una pallonata in faccia mi ricordo all'oratorio però ho giocato molto poco a calcio ho giocato di più a scuola probabilmente durante educazione fisica quando ci facevamo giocare a calcio però avevo questa brutta abitudine io guardavo la palla e tentavo di tirare dei calci alla palla se tra me e la palla c'era qualcosa in mezzo io non è che mi fermavo è che questo è dobbiamo dirlo è tutta colpa di Oliver Engie per cui se il pallone è qua e tu sei qua e io sono qua io vado verso il pallone poi se ti becco e ti distruggo le gambe sono cazzi tuoi non me ne frega un cazzo potere pelato mi sentivo molto Mark Landers esattamente esattamente se lo faceva Mark Landers perché io non potevo eh comunque poi abbiamo Red Ice 26 che non compro Pink e Mash e Shiba anche Blue Lock è diventata una roba Browsy Love che è lo stesso di questo ma in versione singola poi c'è Hello Morningstar 1 che boh è lo stesso di questo ma in versione singola e poi abbiamo Blue Lock versione Boys Love con catena anche lui da cane come lui c'è questa similitudine possiamo vederla chiaramente e è un materazzi del cazzo ok è un materazzi del cazzo non so cosa sia un materazzi ma ok un materasso tipo Blue Cock probabile probabile poi c'è Citrus sempre a tema amore uguale Blue Sky Complex 1 che invece è questo qua oddio che casino moglie di una spia 1 e 2 separati che è in ganasciura 22 meno male c'è qualcosa di video interessante comunque per ora di tutte queste robe prenderò Blue Lock e che è in ganasciura non lo so io settimana scorsa se hai visto il mio video acquisti ho comprato un po' di cose bandana e poi fondamentale Assassin's Creed Dynasty 3 una roba che non me lo farei sfuggire nemmeno se fossi uno che sa leggere ma non so leggere e va bene con questo abbiamo finito anche Planet Manga però ci sono 11 uscite anche di Panini Comics e abbiamo Call of Duty Vanguard Vanguard 3 per i fan di Call of Duty c'è sicuramente un codice all'interno grazie Bojack che ha regalato un abbonamento a Crudà Crudà uniciti al nostro gruppo sub punto esclamativo sub così puoi accapigliarti con leggo un sacco poi Ratman Gigante con l'ombra di Topin l'ombra di Topin basta parlare di calcio porca puttana ve l'ho già detto che vi banno ho capito non me ne frega un cazzo grazie perché le prime le stavo parlando neanch'io per cui va bene ma non andate avanti su ritornate Driller sospeso per 10 minuti te la sei cercato l'hai fatto per trollare e sei stato trollato cazzo così impari comunque spero spero che Driller non sia uno di quelli che si offende per le sospensioni comunque a parte Ratman Gigante 103 abbiamo King of Spies di Matteo Scalera e Mark Miller al più grande agente del segreto del mondo restano 6 mesi di vita la scelta è morire su un letto di ospedale oppure a raddrizzare una vita e decisioni sbagliate se è prima da perdere punterà le sue pistole su tutti i responsabili dell'attuale situazione mondiale evviva ma non è già uscito è nuovo questo sono tutte uguali le serie di Mark Miller per cui boh eh sì Ruka io non l'ho letta le storie di Wonder Woman di Ruka però tutti ne parlano molto molto bene eh comunque Prodigy non ce l'ho mi sa tanto sono tutte uguali per questi cazzi però bello che cosa contiene cosa chi è comunque la serie del 2021 mi piace quando si dimenticano i pezzi vecchi no vedi King of Spice 2021 1-4 e poi 2021 3-4 di cosa non si sa probabilmente di un'altra scheda che è rimasta lì vabbè perché fanno copy and colla chiaramente si nota più e più volte che fanno copy and colla comunque a parte questo Boo e Mark Miller se ti piace lo leggi se no tanto non ti perdi niente però c'è Matteo Scalera che se non altro è piacevole da vedere però qualche serie su personaggi femminili della DC che vale la pena leggere e dipende giocatore scarso però te lo dico non in questo momento in cui sto vedendo cosa esce cioè se devo anche stare lì a pensarci diventa un po' complicato così su due piedi Supergirl di Tom King ma non l'ho letto però secondo me è figo Harley Quinn ci sono tante cose belle e tante cose meno belle Powergirl di da Colin e boh non mi ricordo mai i nomi degli autori per cui Wonder Woman era morta anche hai seguito il leak di GTA 6 ma ti anche leggo un sacco si becca una sospensione per essere andata totalmente fuori tema ok va bene oggi andiamo così ve lo dico e va bene poi cos'altro abbiamo di bello Asterix l'ha traviata ragazzi state a tema porca puttana allora se mi ti chiedete una roba che c'entra un minimo ha senso ma se mi fai una domanda che non c'entra un cazzo cioè GTA 6 ma che cazzo c'entra su e che cazzo eh comunque Asterix l'ha traviata non succede niente stiamo facendo il solito show io che sospendo la gente a casa prossimo passo mettere la chat solo emotico no solo emotico no non ho bannato nessuno Antonio era appena arrivato si attacca al cazzo cioè lo vede che stiamo facendo altro non è che io vado in una chat qualsiasi entro e gli chiedo ehi ma cosa ne pensi della situazione dell'Ucraina in una live in cui stanno parlando non lo so di cucina proviamo la ciazzola abbonati ma era abbonato non cambiava niente Bojack ma il problema è sempre quello non sono i nuovi che arrivano a caso con cui io non me la prendo in genere sono quelli che sono qui da vent'anni e me è quello che fa incazzare che comunque volume 2 devo ancora leggere l'uno mi sa 20 mesi cioè 20 mesi 20 mesi vabbè non è proprio più di due anni ho iniziato tipo a giugno luglio a fare Twitch per cui uno può essere qui anche tecnicamente da due anni è qualcosa di Berserker ma il primo non l'ho letto in realtà l'ho comprato e poi è rimasto da qualche parte e non so dove dovrei leggerlo in effetti adesso che esce il 2 mi leggo l'uno potrebbe essere un'idea poi abbiamo Spawn Star Wars Throne ho unito Spawn L'ascendenza e il male minore di Timothy Zan grande Timothy Zan mi piaceva un sacco però vabbè carino se leggete i romanzi di Star Wars ci sta non c'è solo Manuel ma non me la prendo crada voglio semplicemente che la live abbia un senso e quindi ve l'ho già detto se sto facendo una cosa non mi chiedete una roba che non c'entra assolutamente un cazzo soprattutto se volete una risposta e se siete qui da tanto tempo io vi insulto funziona così comunque Conan Leggenda 2 Conan la leggenda 2 oh guardate cosa arriva arriva Carisma Conan la leggenda 2 questa volta non lo compro Carisma per principio e se vogliono che lo comp se vogliono me lo mandano non sto con la cazzo Conan la leggenda 2 Cimmeria Richard Corbin Thomas Giorello e Tim Truman 320 pagine contiene Conan di Dark Horse dal 2040 al 50 no non è vero sì forse sì è il Conan Dark Horse sì è la seconda serie che ristampa le storie Dark Horse di Conan quelle non presenti nell'omnibus di vabbè un casino però che lo sia quella infatti questo qua era quello che stampava le storie di Mignola Carinord eccetera Fico qui c'erano i numeri infatti 2931 38 44 caruccio caruccio no se hai comprato l'omnibus moltissima gente si era lamentata perché mancavano queste storie e quindi Panini cosa ha fatto ha fatto questi volumi qui che sono quelle che non ci sono in quell'omnibus lì fondamentalmente ci sta secondo me se tu cerchi vabbè no non è questo non so se non era Nord vediamo se così esce qualcosa secondo me no no che palle forse non era un omnibus sì sono le ristampe della serie 100% ma anche l'omnibus lo era solo che erano soltanto le storie forse non era un omnibus era una deluxe stramba eccolo qua era questo è questo qua solo che non c'è scritto omnibus per cui non esce grazie però era un omnibus al 100% e questo qua conteneva appunto lo 0 dall'1 all'8 poi il 32 il 39 il 45 il 46 mancavano quelle storie lì che pubblicano lì per cui se uno si era comprato questo gli mancavano quelle storie là e loro le hanno riproposte in questi formati qua ci sta alla fine se vuoi recuperarti quelle storie dal course è fico sono poche passano 1024 pagine al modico prezzo di 89 euro comunque tornando a noi poi abbiamo carisma che è un nuovo capitolo senza cover perché figurati di 40in prophet scritto da fabio guaglione ci sta certo se me lo mandassero io farei farei anche l'intervista la review eccetera visto che il primo me l'hanno mandato questo non me lo manderanno eh si attaccano al cazzo sicuramente non sono così interessato perché non posso comprare tutto e quindi mi dispiace 16 euro non c'ho voglia di spenderlo per quanto sia interessante ma che ha fatto di interessante sto guaglione ma leggo un sacco l'abbiamo avuto anche in live recuperati la live ma Conan e Marvel tornato alla Titan come è tornato alla Titan non credo a Zfufu che io sappia è uscita sta uscendo ancora Immortal Avengers così sei sicuro ah si non stanno pubblicando ma scusa ma da quando a luglio ma com'è possibile che è ancora presente in segreto Avengers che peccato vabbè sti cazzo è geniale sono proprio geniale mi piace allora io non so come è andata però la notizia dice a confermare la notizia è Fred Malberg amministratore delegato di Heroic Signatures l'azienda che giustisce i diritti di Conan e che a quanto pare d'ora in poi ne pubblicherà i fumetti in prima persona è stato meraviglioso con ben lavorare con Marvel ma fondamentalmente loro hanno deciso di non ah ok loro hanno deciso di non estendere la licenza ok così ha più senso hai qualche Marvel History o Marvel Geek il formato più grande di altezza o no rispetto ai normali non ne ho idea leggo un sacco Conan esce di Shukaku Kan è l'altro Conan comunque è l'altro Conan ancora in realtà in poche parole non vende un cazzo esatto è probabile ma mi fa ridere perché hanno ristampato gli omnibus eccetera potevano lasciarli a dar corso i diritti a sto punto era meglio no comunque tornando a noi e basta panini abbiamo fatto dovremmo avere Marvel ok Marvel ho chiuso Marvel no in me non so nemmeno quale linea è si l'ho tolto perfetto non so nemmeno quale linea è Marvel Geek che cazzo di formato è Marvel Geek cioè cosa hanno pubblicato di Marvel Geek Marvel Geek gli Exiles e basta ah ok erano tipo ristampe di roba classica però viene fuori anche io sono Black Panther per qualche modo viene roba fuori vabbè la ricerca è sempre ma come nessuno allora come puoi dirmi nessun risultato quando se io lo scrivo qua appare della roba che sito di merda vabbè vabbè ok Tony Stark ha fatto anche cose buone sono molto felice e grazie per il follow salmone dorato 9 ce ne sono altri 8 inquietante comunque anche oggi sito panini si merita un applausi bravo sito panini sei sempre il migliore grazie di esistere comunque continuando abbiamo il Marvel Integrale gli Incredibil X-Men 45 con Guerre ad Asgard no era Guerre ad Asgard questo? no forse no non mi ricordo forse sì mi ricordo questa cover no non è no è quando andavano da Mojo tipo ma comunque Arthur Adams ci sta ah è la prima parazione di Longshot stop top c'è Ancanny X-Men 208-209 e Ancanny Annual 10 bello con tutti i soldi che fanno in panini manco un sito per fare soldi riescono a fare manga li ho già visti sì Fede Senpai ma non è che ci fosse tutta sta roba sono un po' di pack vari con un po' di roba boys love poi c'è Kangana Shura Red Eyes e boh mi ricordo comunque Marvel integrale X-Men 45 ok X-Men 12 lo pigliamo X-Force 26 lo pigliamo l'omnibus di Alien e la storia classica arriva finalmente pochi omnibus questa settimana solo 3 per ora sì Marvel Deluxe ok sì sono quelli sono deluxe per cui sono formato deluxe di panini c'è il fottuto galà di merda non mi sembra non c'è ancora il fottuto galà di merda dove lo vedi ma poi che ti frega cioè il galà è stato proprio è stato uno degli eventi fatti meglio della gestione Ickman nel senso che ti potevi leggere quello che volevi non dovevi comprare un cazzo e boh a parte spoilerare vabbè ma figurati è Tex non ci facciamo caso con i boomer bisogna fare così ma poi cosa ve ne frega cioè no non è vero stanno andando a game world in realtà non sono non è il galà è in vista del ma stanno semplicemente andando a game world quindi sono vestiti bene per quello vanno al coso ma sì ma infatti era sull'anteprima il galà poi ribadisco che cazzo ve ne fotte cosa vi cambia è una storia santo dio che palle comunque tornando a noi cercando di non andare fuori tema fate i bravi che poi prima era apparso anche Wolverine prima eh non ho capito ma non è cover bait non c'è scritto un cazzo mamma mia che palle Tex mio dio comunque e poi le cover sono così da tutta la vita e hanno solo dei vestiti diversi perché stanno andando su coso world Capitan Marvel volume 2 il volume che ristampa le storie pubblicate sullo spillato ok il fumetto degli X-Men di Wolverine solitamente non riesce a stimare gli X-Men non lo so non ne ho la minima idea Fantastici 4 5 Silvo questo lo voglio comprare Silversal per rinascita assolutamente poi Spider-Man Blue cos'è? Grandi tesori Marvel questo? non mi ricordo che edizione era sì Grandi tesori Marvel Spider-Man Blue carino però ce l'ho già e non lo ricompro così però se volete Team Sail e Jeff Loeb li abbiamo anche in versione Marvel ma il nuovo evento Marvel esce a novembre l'hanno annunciato anche quello su Anteprima tenete conto come sempre che gli spillati spesso appaiono anche durante settimana per cui boh Spider-Man Blue sì sono Jeff Loeb Team Sail è difficile sconsigliare Jeff Loeb Team Sail It's Mickey Fire non avendolo ancora letto non ne ho la minima idea di base sì però tipo le idem con patate non avendolo mai letto non lo so di base sì però ribadisco non l'ho letto quindi non vi so dire sto bene volta tutto ok avevano anche tolto Empire il martedì avevano anche tolto Empire il martedì Empire ok se facessero tutta la squadologia di Sail me la prenderei eh buh non lo so tutta in questo formato ci sta però io ho questi qui credo di averli negli albettini brossuratini me li tengo così perché sinceramente con tutta la marea di roba che esce 28 euro non li spendo e ok va bene questo non mi dispiacerebbe comprarlo se devo essere sincero alcune storie non le ho però insomma sì è stato divertente vedersi comunque con questo abbiamo finito Marvel mica ma è tardissimo tra l'altro ci mi hai impiegato un'ora e mezza passiamo a vedere facciamo rapidamente Bonelli vediamo cosa esce sta settimana vediamo un po' eh non lo so è che escono troppi volumi sta settimana sono tutti volumi per cui farò un po' di scernita poi vediamo però non lo so no non disponibili prossimamente prossimamente aprimi prossimamente aprimi fattuto prossimamente apriti dal 29 che è domani Tex Will ai confini della Louisiana Tex arriva l'annual di Dylan Dog con lo speciale numero 36 eh The Gentleman Hotel di Lansdale che cazzo è sta cosa eh l'orazione tra Bonelli lo scrittore texano Joe Lansdale questo racconta fumetti western horror adattato da Luca Crovi e l'illustrato da Daniele Serra ha vinto il British Fantasy Award beh bella questa immagine beh figo però sono zombie e cowboy cowboy zombie però il problema 112 pagine cartonato prezzo non c'è scritto c'è scritto di qua non c'è scritto costa però ma non so cosa sia Deadwood Dick io non sono un fan Bonelli proseguendo esce anche nella versione variant comunque ok poi abbiamo classic Tex nero sia standard che variant Dampir le biblioteche dell'orrore Tex i grandi eroi di Gianluigi Bonelli non so quando finisce la settimana il 24 direi sì quindi finisce qua anche questa settimana non devo comprare niente forse compro lo speciale di Dylan Dog tanto per buono sono contento poi carine queste cose però classic Tex è un complimento al nostro Tex esatto esatto abbiamo un classico Tex anche in chat sì sì costerà 18-20 come al solito però finisce il 25 con le elezioni oddio penso che non voterò perché non ho la tessera elettorale ho capito come farla però ci sarà coda e non ho voglia di fare coda tanto non so chi votare e sono assolutamente contrario a questa cosa devo cercare di farmi fare la tessera domani inizio a capire e lo so che devo andarla a ritirare ma c'è sempre un casino perché sono coglione invece di farlo ad agosto l'ho fatto adesso sì che vale è sempre aperto ma c'è un gran casino per farla ma ribadisco vedrò di provare a farlo comunque proseguendo andiamo da Star vediamo cosa esce di Star Comics questa settimana c'è qualche notizia tipo oh no nuovi slittamenti aggiornamento 19 settembre aggiornamento di oggi fresco fresco ah un vago slittamento per Kamisama Kiss New Edition che dal 26 ottobre passa all'11 gennaio 2023 e anche vabbè Sanpei il 3 dal 28 ottobre al 23 novembre un mesetto anche quello yeah ah il 15 hanno anche spostato Assassin's Creed Valhalla che dal 26 ottobre è andato a data da destinarsi ciao Assassin's Creed Valhalla ti abbiamo voluto bene olè sti cazzi è brutto però Spiro 4 sai io di mio mi sento in colpa se non vado anche se non so chi votare cioè fino a cosa vota più Europa però è il PD non lo so sono indecisissimo però con la merda che secondo me il problema in questo momento è che con la merda di persone che vinceranno le elezioni sarebbe importante andare a votare qualsiasi cosa che non sia con loro però boh tanto ne vincono lo stesso però meno vincono meglio è il concetto è quello eh sì così mi arrestano perché sinceramente secondo me rappresentano proprio il peggio possibile della politica il peggio possibile del paese è proprio la cosa peggiore possibile no Cheval io non ho detto che voglio secondo me votare in bianco è una stronzata andare a votare che non ritiri le schede è ancora più da idiota io non sono per l'antipolitica per me è importante votare l'importante è non votare la merda questo è l'importante spoiler anche se l'ottanta per cento delle persone andassero alle elezioni e si mettessero a verbale che non ritirano le schede sai cosa cambia? niente niente a parte che ti senti un deficiente perché sì ok non hai cosa e quindi hai deciso di non votare beh bravo non è vero ma non è tutta merda il problema è che allora è ridicolo dire è tutta merda e sai perché è ridicolo? perché abbiamo 75 mila partiti in Italia non siamo negli Stati Uniti dove dici ah cazzo ho voto democratici ho voto repubblicani sì vabbè a volte c'è il terzo partito che non conta niente ma è tutta merda e non è così in Italia in Italia abbiamo mille partiti cioè ogni elezione ci sono 75 partiti che puoi votare minchia vai e votali se tutti quelli che non votano che sono a volte il 20% il 25% il 30% andassero a votare il mini partito di merda il mini partito di merda vince cioè vi rendete conto di questa cosa o magari non vince ma diventa il partito che ha peso posante negli equilibri e questo è il punto esatto esatto a me fa ridere questa cosa non so chi votare se ci sta però non è che non hai possibilità le possibilità ce le hai un partito che incontrerà le tue idee ci sarà pure madonna vai e votalo piuttosto poi che se è difficile trovarlo sono d'accordo però sì è probabile l'assenteismo sarà altissimo in questa in questa roba ehi ma i voti non vanno a votare perché hanno questa ideologia qui del cazzo che andrebbe fatta passare al peggio sì si vota almeno peggio per non far salire il peggio votato dalla persona di merda ma anche se non vuoi dire voto il meno peggio piuttosto vai e vota qualcun altro ma vai e vota perché se tutti andassero a votare anche i partiti piccoli quei partiti piccoli probabilmente supererebbero la soglia di sbarramento e avrebbero un minimo valore in parlamento per cui secondo me è importante comunque andare infatti voglio cercare di avere la testa almeno vale voto quello è Conan Star pubblica Conan sì fratello da vent'anni pubblicano Conan pubblicano il Conan francese quello che venga pubblicato senza diritti perché in Europa Conan è fuori dai diritti internazionali quindi ci puoi fare quello che vuoi se tu domani vuoi fare il tuo fumetto di Conan puoi farlo la scelta dei partiti è come scegliere momentano per suicidare siamo in ampia scelta ma il risultato non è vero spiro fuori questa è la classica modo di dire da qualunqui lo riformulo questo è qualunquismo non sono tutti uguali è una stranzata che sono tutti uguali è l'idiozia che ha portato a riempire il Parlamento alle elezioni precedenti di quei coglioni dei 5 stelle gente senza arte ne parte che gridavano i politici sono tutti uguali poi sono andati lì e hanno fatto cacare perché? perché non avevano idea di quello che facevano è una stranzata se le fasce più debili della popolazione vengono trattate di merda e quindi non vanno a votare sono anche stupide però eh concordo nero sono d'accordo con te penso che vota la rinascimento il partito di Sgarbi ci sta meglio anche se poi Sgarbi secondo me va con la Meloni comunque torniamo ai fumetti lasciamo perdere questa roba politica Assign or Affection 3 carino la storia romantichina con lei che è sordomuta e lui che viaggia e parla tante lingue e quindi vuole imparare la lingua dei segni è carino Cardcaptor Sakura 8 penultimo numero della riproposta Conan il Cimero 13 già dicevamo il Conan francese senza diritti potete farlo anche voi il vostro fumetto di Conan andate a farlo poi Detective Conan Zero's Tea Time che è uno spin off di Detective Conan o di Conan il Barbaro chi può dirlo finalmente Dragon Ball Super 17 sono emozionatissimissimissimo ma è l'ultimo il 34 di di voto si è il finale ok non mi ricordavo se è il 34 o il 35 finisce l'emblema di voto con una nuova fantastica scheda numero scheda elettorale e poi abbiamo IQ Collection 2 Martial 7 anche qui poca roba Wuronic Henshin 4 Solo East in a Cage 1 Solo East in a Cage versione limited box con scazzi e mazzi Super Dragon Ball Heroes Big Bang e anche qua minchia c'è i due fumetti di Dragon Ball Super ma farli uscire divisi no non prendere il giro Super Dragon Ball Super perché ti piace piace anche a me non lo prendo in giro prendo in giro questo che fa cacare al massimo Kenshin lo stai continuando? sì però non l'ho letto il 2 e il 3 devo leggere il 2 e il 3 e poi abbiamo Sweet Home 2 e Tsubaki Shou Lonely Planet 4 questo dovrebbe essere carino in teoria credo preso un sito ospita criminali di ogni sorta ospita città prigione ricoperta da un gelido manto di neve la ragione di vita di Chloe prende sicura del fratellino Loc ma il piano è stato dai loro vicini di casa un manipolo di militari sta per cambiare il destino di entrambi nell'arco di una notte ma sembra una roba figa è un seinen di non c'è scritto Shiro Moria questo sembra bellino sicuramente da dargli un'occhiata non credo che prendeva il cofanetto se c'è vediamo cosa c'è in fumetteria però potrebbe essere interessante cioè questo qua c'è soltanto il cofanetto immagino in più il senatore attuale limitata legato al pratico box per la quale l'intera serie vabbè ci sta sono due volumi in uscita nei prossimi mesi il beria fumetteria e store ma magari ci sta anche se uno c'ha voglia di prendersi il cofanettino però effettivamente costa 11 euro e 90 secondo me uno se li può anche risparmiare però sì almeno penso che prenderò la versione normale perché sinceramente per buttare via i soldi con tutta la roba che esce mi prendo quella senza cofanetto e ciao va bene è 15 per 21 ah sì tra l'altro ah sì ci sta no ma mi va bene anche tancomo normale 16 e 90 ma frega un cazzo fatelo vedere ad inizio vabbè ciao e sono anche molto più belli quelli palane cioè quelli star comics tra l'altro c'è questo piccolo particolare eh abbonati appellati fumetti approfittando del september sono d'accordo Antonio hai perfettamente ragione sabbatevi con il september e potrete sapere chi votare Biden ha detto che la pandemia di covid-19 è finita e nessuno indossa più la mascherina oddio finita non mi sembra ci sono tipo 30.000 casi al giorno da noi però ok che nessuno indossi più la mascherina è vero in metropolitana metà della gente non c'era avevano tante forze obbligatorie alla fine ho ordinato 300 a 13 euro sono stato l'unico no un bel po' di gente se l'ha comprato in realtà ho visto la gente che lo ordinava e ok a questo punto jpop jpop siamo tra gli editori di migliori di manga in italia ma non solo in italia o non solo in manga non lo so comunque cosa esce questa settimana questa roba ah ok sono le pubblicità di roboli ma è dan 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 ah ok arriva finalmente non lo sapevo comunque questa settimana per jpop abbiamo caolun numero 7 il primo numero di dan da dan che era stato un sacco pubblicizzato era napoli non mi ricordo non era luc era napoli sono in metropolitana adesso siamo circa il 30% ad avere la moscherina si si no lo so lo so mi ricordo l'ho presa ieri e minchia tra l'altro più sono giovani meno ce l'hanno non gliene frega proprio un cazzo ed è brutto secondo me perché è proprio una dimostrazione di non fregartene la minchia di nessuno poi per carità in giro non metterla però è metropolitana sei lì fermo pieno di gente boh se non altro la fp2 è un minimo ripara anche te stesso per cui ci può anche stare comunque nuvole nord ovest 5 molto molto figo comi assolutamente da comprare golden camui purtroppo non lo faccio ma sono 28 numeri e non li recupererò mai penso un nuovo cofanetto dei pokemon con i numeri 20, 21, 22 e 23 non li ho mai comprati i fumetti dei pokemon anche se mi dicono che è figo a napoli ero lì con michele mari e cercavo di entrare impulsivamente nell'area VIP ah ok iam e iro numero 6 figo iam e iro mi piace molto ma la gente non l'ha capito ma è stupido io avevo solo io in metropolitana e beh va figurati la cash fan scherzo di cosa parla iam e iro fondamentalmente zombie un po' strani però essendo un fumetto di Cosoli come cazzo si chiama non mi ricordo mai il nome dell'autore Ango Anazawa tipo non lo riesco a leggere perché è troppo piccolo è molto particolare come stile di scrittura e come psicologia dei personaggi però è molto bellino secondo me poi Back in Stock Golden Camus 25 e 26 Comi 11 e 15 Zelda da 1 al 6 e Overlord 1, 2, 4, 5, 7, 10, 14 il box da collezione dei Pokémon e di Randaggi sono tornati in disponibili ma che è il box di collezione dei Pokémon quale? non hanno i numeri in teoria? boh non si sa misteri Kengo Anazawa è vero Kengo Menfian Anazawa bello Menfian mi piace però come no è molto bello non è per niente un classico fumetto di zombie no no non è un classico fumetto di zombie ma sono zombie cioè non sono proprio zombie ma sono tipo zombie e no non è come The Walking Dead no proprio no poi a questo punto vediamo se per caso Goen ci ha fatto qualche sorpresa e sono tornati in vita secondo me no 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 aspetta no oddio sono a Palermo tre navate paniglione B tre navate quattro giorni fa ok qualcuno gli chiede ma a Cavalco di Circus 46? ma le nuove uscite? ma l'ultimo viaggio delle ragazze? ma quando le nuove uscite? boh però esistono dai presente come sempre l'importante è quello comunque a parte questo e va bene chiudiamo come al solito con Saldapress vediamo questa settimana cosa ci porta Saldapress dal sito eh sì lo so tendo a fare spendere la gente it's Mickey Fire lo so è un po' un problema allora vediamo un po' prossime uscite ma quindi arriva Oblivion Song questa settimana figo perché l'hanno messo su ottobre mi è arrivata la press release di Saldapress che diceva ottobre però non l'abbiamo rimandata a ottobre e Oblivion Song mi sa che me lo compro perché tanto non me lo mandano nel sesto volume giustamente e anche questo dovrebbe uscire una giusta sete di vendetta che però se volete ve lo posso anche già far vedere di nuovo perché ce lo do quindi è un po' Wong sì sono d'accordo ci assomiglio è una roba un po' particolare sembra praticamente c'è una famiglia che deve essere salvata da un killer psicopatico da un mercenario e lui è una persona che forse è normale ma forse no interessante questo non l'ho ancora letto in realtà ho letto oggi questo di Saldapress molto carino particolare è chiaramente allora è un volume singolo sì però è chiaramente una roba pensata per durare di più poi arriveranno nuove storie non si sa perché però figo mi è piaciuto fa molto Heroes come stile ricorda tanto Heroes la serie se ve la ricordate però non era male ha un po' l'unico difetto è che sembra un po' una roba che debba continuare però questo sembra interessante anche questo lo leggerò vediamo un po' e va bene va bene direi che con questo abbiamo visto tutto se non avete domande specifiche io vi saluterei fatemi sapere se avete qualcosa che vi devo dire se no vi faccio un raidino a qualcuno che potrebbe essere oggi non lo so Ellie Ellie così le chiediamo se stasera viene su 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 stromica chi fumetto è quello nel mondo di The Walking Dead è Clementine il nuovo fumetto ambientato nel mondo di The Walking Dead che è anche un po' un sequel della serie di di videogiochi di Telltale per lo season 1 2 3 eccetera quindi andate a se volete qualcosa di sparticolare è molto caruccio non l'ho ancora letto ma l'ho sfogliato e ho parlato con l'autrice in una round table eh sì Sheval è una capra superstiziosa comunque andiamo da Ellison cos'è Astromica? è un canale su Twitch e una casa editrice che fa live tutti i lunedì in teoria ricomincia questa settimana in teoria e siccome collaboro con loro da un parecchio sono nelle loro live sempre più o meno a meno che non abbia di niente a meno che non abbia di meglio da fare tipo questa sera non ho di meglio da fare quindi ci sono e comunque noi ci vediamo domani alle 18 come al solito spero di far uscire un video a breve ciao ma di base si onda tanto non è non sono gli stessi personaggi